ragazzi ora vi faccio vedere una cosa proprio proprio da morire da morire un motorino tiro una macchina madonna la corda si sta per spezzare questo ma che cazzo vedete 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 bellissimo ma ora si che ho visto tutto un motorino che sta tirando una macchina il prossimo vediamo una bicicletta che tira un tir ciao ragazzi ciao